Buone notizie per le 450 famiglie cosentine che godono dei contributi per il fitto casa. Il Comune di Cosenza ha stanziato 120.000 euro per integrare le somme in arrivo dalla Regione Calabria e che ogni anno diventano sempre più esigue. Un buon esempio di politica attenta al sociale. Proprio oggi abbiamo deciso appunto di approvare una variazione al nostro bilancio, recuperando l'economia e destinando questa variazione alle famiglie cosentine. Come? Integrando con fondi comunali il cosiddetto contributo fitto casa. Contributo fitto casa è un contributo con fondi regionali che assottigliandosi di anno in anno era arrivato sostanzialmente a coprire solo il 10% di quanto i cittadini dovevano ricevere. Noi oggi interveniamo con una somma importante, 120.000 euro, e i cittadini non prenderanno più il 10% della somma aspettante ma arriveranno al 20-25. Non dimentichiamo tra l'altro pure che la Regione è un po' in ritardo con il trasferimento dei fondi. L'anno scorso, immaginate, ha liquidato il 2011. Siccome è un intervento importante che va a sostenere circa 450 famiglie della nostra città che vivono in una condizione quasi al di sotto della soglia di povertà, quindi noi non potevamo non intervenire. Il Comune di Cosenza ha l'avanguardia sulle politiche sociali. Ogni tanto, diciamo, non dobbiamo anche valorizzare gli esempi positivi. Noi credo che in termini di politiche sociali possiamo essere equiparati ad un Comune di alto livello anche del centro-nord, in quanto offriamo sussidi ma offriamo anche servizi. Non dimentichiamo mai le attività, soprattutto sui disabili, su pre-post-scuola, sulle persone non autosufficienti. Ci sono circa 600 famiglie a Cosenza che grazie all'amministrazione comunale ricevono una visita quotidiana da operatori specializzati. È un quadro di livello altissimo. Noi ne siamo orgogliosi e speriamo sempre di migliorarlo.